Bene, parliamo del sistema endocrino. Questa è una brevissima introduzione al sistema endocrino. Quando parliamo del sistema endocrino, ci riferiamo a uno dei sistemi regolatori del nostro organismo. Assieme al sistema nervoso, ha la funzione di controllare praticamente tutti gli aspetti del nostro organismo. In altre parole, controlla l'omeostasi dell'organismo stesso. Guardando questa diapositiva, vediamo le principali ghiandole del sistema endocrino. L'ipotalamo, l'ipofisi, le paratiroidi e la tiroide, le dico assieme perché sono localizzate, vicine, le surrenali, che si trovano sopra i reni, il pancreas, nell'addome, le ovaie, per quanto riguarda le donne, e i testicoli, per quanto riguarda gli uomini. La prima osservazione da fare, di tipo anatomico, è che il sistema endocrino non è un sistema compatto dal punto di vista anatomico, in quanto tutte le sue parti sono separate fra di loro. È un sistema che prevede la produzione, da parte di queste che sono cosiddette ghiandole endocrine, di ormoni, ormoni che sono dei messaggeri, che raggiungono il loro bersaglio attraverso il sangue, quindi vengono rilasciati nel sangue. Ghiandole, pertanto, endocrine, da distinguere dalle ghiandole esocrine, che sono le ghiandole che rilasciano il proprio secreto verso l'esterno. Per capire bene questa differenza, possiamo prendere in considerazione la struttura del pancreas. Il pancreas è contemporaneamente sia una ghiandola esocrina che una ghiandola endocrina. Cioè, una parte del pancreas funziona come una ghiandola esocrina, ed è quella rappresentata da questi acini cellulari che producono questo secreto che alla fine attraverso un dotto viene gettato all'interno del duodeno. Questa è la parte esocrina. Mentre la parte endocrina non contiene nessun tipo di dotto, eccole qua le cellule che rappresentano le isole dell'angerans, e direttamente lasciano, liberano i propri ormoni all'interno dei capillari. Gli ormoni del pancreas endocrino sono l'insulina e il glucagone. Ecco, nonostante questo aspetto, come dire, di allontananza tra le ghiandole, dal punto di vista anatomico, abbiamo una struttura gerarchica molto precisa all'interno del sistema endocrino. In questa diapositiva intanto vediamo tutta una serie di funzioni del sistema endocrino. Possiamo vedere, guardando un po' di qua, un po' di là, il fatto che il sistema endocrino controlla la presenza del calcio nelle ossa, controlla la produzione di sperma, di ovociti, diciamo tutta la sfera sessuale, controlla la glicemia con il pancreas e cos'altro controlla? Controlla la crescita in generale, questo è il GH, l'ormone della crescita, la produzione del latte, la eiezione del latte e la contrazione della muscolatura liscia dell'utero durante il parto. Questi sono solo alcuni esempi di cosa controlla il sistema endocrino. Per vedere uno degli aspetti importanti, cioè l'aspetto gerarchico, sul quale vorrei che vi soffermaste, vediamo l'ipofisi, l'ipofisi che è divisa in ipofisi anteriore e una posteriore, se c'è tutta una serie di ormoni che a loro volta agiscono su altre ghiandole endocrine, una sorta di catena, per esempio, fra gli ormoni abbiamo il tireotropo, prodotto dall'ipofisi anteriore, che a sua volta agisce sulla tiroide, stimolandola a produrre il proprio ormone, eccetera, vediamo tutti gli altri esempi. Quindi vedete c'è questo aspetto gerarchico. Aspetto gerarchico che viene ancora di più messo in luce se noi consideriamo l'ipofisi, eccola qua, e la sua stretta, strettissima correlazione con l'ipotalamo, l'ipotalamo è una parte del cervello. Questa stretta correlazione, la vediamo in quest'ultima diapositiva, consiste nella, dividersi in due parti, allora, un'ipofisi posteriore che funge quasi solo da zona di rilascio di neuroormoni, ormoni che vengono prodotti qui, quindi da cellule che si trovano nell'ipotalamo, e poi rilasciati a livello dell'ipofisi posteriore o neuroipofisi. Più controllo di così io lo saprei. Per quanto riguarda invece l'ipofisi anteriore, abbiamo queste cellule nervose che rilasciano dei fattori stimolanti o inibenti che vanno ad agire sulla ipofisi, la quale a sua volta rilascia questi ormoni. Quindi vedete c'è un centro, l'ipofisi insieme all'ipotalamo, alcuni la chiamano il cervello, come dire, il cervello ormonale o il cervello endocrino del nostro corpo che controllano la secrezione di altri ormoni e via e via e via. Naturalmente non tutte le cellule, non tutte le ghiandole sono sottoposte a questa rigida gerarchia, però questa gerarchia in qualche modo caratterizza un po' tutto il sistema endocrino che poi andremo a vedere in modo più approfondito.